Allora, parliamo dell'argomento un po' più tecnico. Ci sono nella scuola migliaia di assistenti amministrativi ex COCOCO che percepiscono metà stipendio perché lavorano a orario ridotto. Avete intenzione di portarli sul full time? Allora, questa è un'altra questione che mi sono ritrovato a gestire. Non potevo immaginare che ci fossero persone in realtà forzate a lavorare a 18 ore a tempo parziale, quando poi soprattutto le scuole hanno bisogno di persone all'amministrativo sempre più qualificato e a tempo pieno perché la scuola non è più quella che ho fatto io 20-30 anni fa o che ho fatto lei. La scuola diventa sempre di più una vera e propria comunità innovativa dove esistono progetti alternativi, finanziamenti trasversali. Bisogna avere un personale amministrativo all'altezza e soprattutto una squadra vera e propria, non soltanto il segretario di turno. E quindi assolutamente sì, è una di quelle questioni che ho messo sul tavolo. Anche qui c'è bisogno di risorse. Le risorse vanno trovate, come dicevo a monte di questa intervista. Voglio puntare molto sul personale amministrativo della scuola. È in genere quello di cui ci si dimentica sempre. Si parla di studenti, giustamente, si parla di docenti, poi si parla di dirigenti scolastici, figure fondamentali. Ma poi c'è qualcuno che agisce nelle retrovie, che permette a una scuola di fare gli appalti in tempi rapidi, di avere delle menze che funzionano, di avere dei servizi che sono all'altezza. Ecco, questi sono dei dirittori amministrativi, del personale amministrativo, il cosiddetto comparto ATA, che ha bisogno di una sua centralità e non può essere fatto con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, con dei part-time che si intersecano con altri part-time. Va fatto in maniera seria.